ciao ragazze in questo video voglio mostrarvi tutto quello che ho acquistato della nuova collezione di essence quindi quello che va nella gamma permanente ho acquistato qualcosina sia da cosmetic for less sia qui nella mia città e li mostro tutti nello stesso video perché comunque alcuni completeranno altre cose adesso vi mostro tutto e capirete e niente iniziamo come sempre vi lascio giù l'info box di prodotti con i loro prezzi perché come sapete alcuni prodotti avendole acquistato da cosmetic for less costa leggermente meno rispetto al prezzo che hanno qui in italia e niente il primo prodotto che voglio mostrare è questo questo è la palette quella grande di essence quella che si chiama my master dove all'interno ci stanno 8 cialde ve la mostro per prima perché poi la coperteremo insieme in realtà gli ombretti l'ho acquistato in insetto di cosmetic for less però non è disponibile questa palettina e quindi l'ho presa appunto nei negozi qui da ovvi s praticamente è fatta così quindi qua avete le auto cialdine che una volta terminate potete cambiare quindi molto utile e non lo so pensavo fosse molto più cheap rispetto a quello che vedremo se mi dura se non la romperò subito e presa appunto quello d'auto proprio perché ho acquistato auto cialdine tra illuminanti blush e ombretti e niente quindi è fatta così adesso vi mostrerò come come la comporrò comunque prendo un random le cialdine perché le ho messe tutte nella scatola che mi è arrivata dal sito di cosmetic for less il primo che vi mostro è questo in realtà sono molto più piccolo rispetto a quelli che pensavo anche se comunque ognuna di queste cialde da 1,7 grammi gli ombretti hanno 18 mesi di pao e questo nello specifico è il 14 purple clouds vi mostro lo swatch e vi faccio vedere come la cialdina la cialdina è questa e quindi è un violetto che ultimamente sto utilizzando tantissimo perché c'è un colore del genere anche in una palette di di nabla e quindi l'ho voluto prendere per vedere com'era la pigmentazione e come mi sarei trovata comunque non è matte completamente secondo me ma è satinato e la pigmentazione è questa quindi è leggermente luminoso non lo so mi piace adesso vediamo come lo utilizzerò sicuramente non utilizzerò su tutta la palpebra ma semplicemente al centro della palpebra per illuminare un po lo sguardo il secondo ombretto di cui voglio parlare è questo questo è lo 05 cotton candy e sicuramente questo lo utilizzerò per illuminare sotto l'arcata sopraccigliare perché sia un ombretto ma è tantissimo luminoso quindi io di solito lo utilizzo proprio qui sotto il sopracciglio vi faccio lo swatch per mostrarvi come sono comunque sono meno polverosi di quello che pensavo rispetto diciamo a quelli come erano prima quelli di essence questo è leggermente più polveroso dell'altro ma forse perché la grana leggermente più grossa rispetto all'altro perché l'altro comunque era più matte rispetto a questo comunque molto luminoso e mi piace il terzo ombretto è questo questo si chiama 07 movie time è praticamente sul malva di quei colori che mi piacciono tantissimo che secondo me può essere utilizzato anche nella piega quindi per sfumare gli ombretti sapete che io per sfumare gli ombretti utilizzo proprio uno di essence e quindi di quelli cotti e mi trovo bene comunque mi piace tantissimo la colorazione questo è matto un altro luminosissimo è questo che lo 06 raspberry frosting anche questo è molto luminoso ed è di quelli che forse a questo non utilizzerò sotto l'arcata sopraccigliare perché è troppo secondo me che da troppo sul rosa però sicuramente lo utilizzerò anche questo è il centro della palpebra per illuminare lo sguardo ed è di quei colori che mi sta piacciono tantissimo da quando ho la palette sweet peach di too faced che ormai è quasi un anno mi sto fissando tantissimo con questi colori e adesso che sta ritornando la primavera e l'estate sicuramente lo utilizzerò tantissimo a proposito di queste colorazioni ho preso questo che si chiama 08 peach party anche questo di una colorazione quindi pescata anche se da più sul marroncino di quello che mi è aspettata comunque la colorazione questa quindi più un marroncino proprio pescato diciamo così rispetto immaginavo molto più rosato comunque questo anche questo è molto luminosa che secondo me anche questo può essere utilizzato sotto la carta sopraccigliare oppure al centro come sto dicendo perché praticamente ultimamente mentre prima utilizzavo quasi sempre un unico colore poi sfumavo leggermente con un colore più scuro nella alla fine dell'occhio adesso sto utilizzando anche una colorazione al centro dell'occhio come vedete anche oggi e quindi sicuramente questo lo utilizzerò così perché mi piace tantissimo invece la colorazione più normale è questa qui che lo 0 3 miss foxy roxy che praticamente un marroncino con una punta di oro all'interno che sicuramente mi piacerà tantissimo utilizzare d'estate perché quando sono leggermente abbronzata a questi colori spiccano tantissimo mi piace tantissimo utilizzare questo secondo me il più pigmentato di questa colorazione qua è comunque anche questo è leggermente brillantinoso però non da facile non ha quei glitter grossi al contrario di questo è questo che hanno comunque molti glitter all'interno però mi piace tantissimo sicuramente lo utilizzerò quest'estate è un'altra colorazione che utilizzerò sotto la carta sopraccigliare questo qui 13 snowflake che voluto prendere sia per il nome sia perché come sapete a me piacciono utilizzare anche questi così che danno semplicemente sul bianco sotto all'arcata per illuminare tantissimo lo sguardo oppure può essere utilizzato anche al nell'angolo interno dell'occhio di questo colore qua che secondo me può essere utilizzato anche come illuminante in tutto il viso mi piace tantissimo è molto ma molto luminoso e l'unico blush che ho preso è questo qua che lo 01 it's very time ed è un soft matte blush quindi un blush matte è una colorazione molto particolare questa qui vabbè adesso ne ho preso un quintale è una colorazione che dà tantissimo sul rosso e che mi piace tantissimo sembra un pescato però con un punto di rosso all'interno non lo so volevo provarlo e l'ho voluto prendere e la palette completa è questa quindi praticamente io ho preso un color matte questo marroncino questo questo qui questo qui questo qui che sicuramente posso utilizzare per illuminare questo che è un che il blush secondo me può essere utilizzato anche come ombretto e niente volevo provarla in modo tale che avere più o meno i colori che potrei utilizzare con un look completo se me lo porto in viaggio perché comunque c'è il blush c'è l'illuminante ci sono tutti gli ombretti anche quello per sfumare quindi ho voluto prendere questo comunque sono pochissimo quindi se mi trovo bene sicuramente ne acquisterò altri poi sempre della linea permanente ho preso da cosmetic for less questo illuminante in stick che è il 20 glow up your life e all'interno ci sono 6 grammi di prodotto e ha 18 mesi di power come sapete mi piacciono tantissimo questi illuminanti così in stick non lo so mi trovo benissimo ad utilizzarli quindi l'ho voluto prendere diciamo che questo è abbastanza luminoso ma lo vedo proprio come blush da tutti i giorni perché comunque secondo me si può dosare e sfumato non è come lo avete adesso ma è molto più leggero però lo volevo provare comunque mi sono trovata abbastanza bene con il blush che è uscito con la collezione di questo autunno di essence che ho finito nel giro di 2-3 mesi proprio perché lo utilizzavo tutti i giorni e mi piaceva tantissimo utilizzavo sia alla sera che al mattino e quindi poi mi farò sapere come mi sono trovata a me piacciono tantissimo questi illuminanti così in stick in crema anche se in realtà ho dei puri dilatati qui dovrei non utilizzarli però mi piacciono tantissimo e mi trovo bene quindi per me è facile anche da sfumare quindi li prendo sempre poi ho preso un unico pennello che è questo qui che serve per fare gli smokey eyes io avevo già quello della collezione precedente che era sul nero con le setole viola questo invece non lo so mi piaceva proprio perché era tribale sicuramente prenderò altri di questi pennelli perché ce ne sono tantissimi che sono usciti da poco è molto morbido più morbido dell'altro ed è così arancione con la punta più bianca non lo so mi piaceva come era fatto poi comunque sapete i prezzi di essence sono molto bassi e poi mi trovo benissimo con i pennelli di essence soprattutto quelli per gli occhi e anche quelli per il blush infatti io per il blush utilizzo sempre lo stesso pennello che è quello di essence che avevo acquistato un anno e mezzo fa quando è uscita la collezione con la tuta dedicata ai pennelli e io ce li ho praticamente tutti mi manca solo quello per le sopracciglia che non avevo preso e poi l'ultimo prodotto è questo questo in realtà non l'ho trovato da Cosmetic for Less infatti l'ho acquistato nell'OBS che c'è nella mia città è lo 010B E Unicorn è praticamente quel blush molto famoso che è tutto colorato e l'ho preso, ho fatto così anche dell'ultima collezione di Wai conservate vi lascio lì nella info box e nella scheda il link per farvi vedere cosa ho preso di quella collezione magari fare una comparazione tra i due comunque questo ha 12 mesi di Pao e all'interno ci sono 10 grammi di prodotto questi sono i colori ma vi mostro tutti insieme perché tanto io lo prenderò miscelato praticamente questo può essere utilizzato anche come ombretti perché tanto c'è molto spazio tra l'uno e l'altro e la colorazione è questa qua, diciamo, miscelati quindi da quasi sul pescatto, è un bianco pesca poi sicuramente dipende anche da come viene miscelato però non lo so, mi piaceva e l'ho voluto prendere proprio perché era una cosa carina e poi comunque costa sicuramente meno rispetto a quello di Wai compro i presi entrambi per vedere come mi trovo con uno o con l'altro perché se mi trovo bene anche con questo questo lo riacquisto dato che è in gamma permanente e comunque costa 4 euro se non sbaglio qui in Italia e niente, fatemi sapere cosa ne pensate di questi prodotti se li avete presi anche voi se avete qualcos'altro da consigliarmi della nuova collezione di Essence se vi è piaciuto il video mettete mi piace e a presto, ciao!